Venerdì 7 settembre 2018. Mancano 115 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della vergine. La chiesa ricorda Santa Regina. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Regina e Guido. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Donnini. Può derivare dal nome tardo latino Domninus, oppure da alcuni toponimi. Donnini è molto diffuso in Emilia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. La variante Donnino, molto più rara, sembrerebbe invece solo napoletana. Accadde oggi. Il 7 settembre 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio in Italia, oggi nota come Genoa. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al regista Dario Argento, nato a Roma il 7 settembre 1940. La citazione da ricordare. C'è da avere più paura di tre giornali ostili che di mille baionette. Napoleone. Dice il saggio. Sbattendo l'acqua non si ottiene il burro, proverbio etiope. Un consiglio al giorno. Se volete evitare che tra i dentini della grattugia rimangano dei pezzettini di formaggio, mettetela in freezer per una decina di minuti. Poi passatela sotto l'acqua molto calda. Tornerà come nuova.